Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita! Trovi le candele bulk usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai adesso dove sono le candele. Rimuovi la protezione in gomma dei tubi dell'aspiratore. Rimuovi il condotto dell'aspiratore. Per farlo, spingi sulla parte gialla di ciascuna clip, a mano o se non ci riesci, con un cacciavite piatto. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per rimuovere i due dadi situati da una parte e dall'altra della bobina. Disconnetti l'alimentazione elettrica delle bobine. Per farlo, solleva la linguetta di sostegno del connettore, poi tira sul terminale. Usa una chiave a bussola con prolunga lunga e inserto da candele da 14 per svitare la candela. Ti consigliamo di cambiare le candele una alla volta, in modo da non lasciar cadere sporcizia dentro il motore. Trucco Puoi usare il blocco delle candele per rimuovere la candela. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e suscriviti al canale. Prendi la nuova candela Monta la candela nuova. Inserisci la prima nella bussola per poterla presentare delicatamente al suo supporto, dove la avviterai. Inizia ad avvitare a mano, poi finisci usando la chiave. In ultima, stringi di un quarto di giro. Noi comunque ti consigliamo vivamente di guardare la nostra guida come bloccare una candela di accensione prima di realizzare questa operazione. Ripeti l'operazione sulle altre candele, riaggancia la bobina e riavvitala, prima a mano e poi stringila con una chiave a bussola con inserto da 10. Riconnetti l'alimentazione della bobina. Riconnetti l'aspiratore e rimonta la protezione in gomma. Riconnetti l'aspiratore e rimonta la protezione in gomma. Riconnetti l'aspiratore e rimonta la protezione in gomma.